Bene, bentrovati e bentornati sul canale di Francesco Pagnello, Consulenze Gastronomiche. Oggi facciamo un video nel video, perché sto preparando la marmellata e qui adesso troverete un po' di immagini che ve la fanno vedere. Però c'è da dire anche questo, ho voluto spezzarlo perché sarebbe stata una procedura troppo lunga. Ora, che cosa facciamo? Oggi andiamo a preparare praticamente una salsa al succo di arancia. Qui vedrete dove l'ho estratto, qui in alto adesso. E chiaramente se volete vedere il video della preparazione della marmellata aranciamare lo troverete qui. Altrimenti continuate a vedere questo video, che sarà un video molto intrigante, che vi porterà a ottenere un prodotto che vi servirà per decorare i piatti di pasticceria, ma se poi vi piace, dove c'è gusto non c'è perdenza, anche di Cucina Salata. Sigla! Cosa occorrerà per la nostra preparazione? Ingredienti molto semplici. Questo è un succo di arancia amare che ho ottenuto mettendo semplicemente a mollo le arance, cioè in infusione arance e zucchero. Per un fatto osmotico si scioglie lo zucchero, tende ad assorbire l'acqua dell'arancia e quindi viene fuori questo succo. Una padella antiaderente buona, una bella lecca pentole, avremo bisogno di 10 grammi di amido di mais e poi nulla più, un po' di pazienza. Andiamo ad operare. Quindi verseremo il contenuto di questa caraffa da mezzo litro in questa padella e porteremo la padella sul fuoco. Quando il succo di arancia sarà diventato bello caldo, bollente, inizierà a sobollire, a quel punto dovremo fare una cosa semplice. Dobbiamo mescolare questo amido di mais con un po' di acqua. Bene, la nostra pastella è pronta. Mi raccomando, non utilizzate acqua calda per sciogliere l'amido di mais, altrimenti si riempie di grumi e quindi quello dovete rifare con acqua fredda. Ora, il nostro succo inizia a sobollire. La prima cosa da fare sarà quello di schiumare, quindi dotatevi di una schiumarola o con un cucchiaio, dovete rimuovere la parte superficiale della schiuma che verrà a galla. Quelle saranno tutte le particelle che chiaramente quel liquido non vorrà contenere. Una cosa naturale. Beh, come potete vedere il succo si è chiarificato, quindi tutte le parti delle impurità del nostro succo d'arancia amaro è venuto a galla. L'abbiamo schiumato, adesso siamo giunti al punto di aggiungere la nostra soluzione di acqua e amido di mais. Beh, che dirvi, a questo punto io potrei anche spegnere la piastra induzione e continuare, diciamo, facendola raffreddare, la metterei all'interno di questo topping e la userei come decorazione o addirittura come gusto proprio per un dolce. Immaginate di ricoprire una torta di quelle naked, quelle scoperte, ricoperta con solo questa glassa al sapore di arancia. Se poi invece a voi piace più colorato, chiaramente, dove, ripeto, dove c'è gusto, potreste addirittura aggiungere un po' di colorante arancio per mantenere il colore dell'arancia, però allo stesso tempo avere anche il sapore. Io sono un po' più per le cose naturali, non metterò nessun colorante, quindi lo lascerò piuttosto traslucido, quindi un arancione molto molto tenue, molto molto chiaro. Poi vedremo l'effetto in un piatto. Bene, abbiamo ottenuto la nostra glassa all'arancia amara e adesso la lasceremo un po' raffreddare e la metteremo in un topping di questi, tipo quelli del ketchup, della maionese. Qui dentro. Ora, come tutti i bravi cuochi, i bravi colleghi chef che si rispettino, faremo un piatto dimostrativo, però non metterò altri alimenti, quindi utilizzerò esclusivamente la nostra glassa. Bene, immaginiamo che la nostra glassa è un po' raffreddare e la nostra glassa è un po' raffreddare. Bene, immaginate di metterci, che ne so, una panna cotta, una bavarese, una qualunque pietanza che chiaramente vada a essere la pietanza principe del piatto. Io anche questo video l'ho terminato, qui in questo caso non ho nulla da assaggiare, perché insomma, l'ho assaggiata, è ottima, una gocciolina. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, visitate il mio sito internet e che dirvi, condividete questa bella esperienza, ci vediamo alla prossima realizzazione. Ciao ciao!